3, 2, 1, GO! Buongiorno ragazze e ragazzi! Oggi siamo ritornati qui con un nuovissimo video! Questo video si tratta di un video molto molto... Collegione PopSocket! Esatto ragazzi! Per chi non sa cosa sono i PopSocket, cosa ve lo spiegherà lei? Allora ragazzi, il PopSocket io lo spiego per chi non lo sa, per chi lo sa non fa niente. Allora, il PopSocket serve per fare i musical.ly e appunto si mette dietro al telefono, non ve lo faccio ancora vedere il mio, si mette dietro al telefono e con una sorta di adesivo... Così si mette raga! Eh, con una sorta di adesivo. Una volta messo si mettono le due dita dentro e si fanno i musical.ly. Così, guardate! Allora, per diventare una muser più o meno, perché comunque ora siamo a 70.000 follower su musical.ly. Cos'è la Marghe Giulia Real? 77.000, ho detto male o bene? Allora, 77.000 su musical.ly. Allora, noi ci chiamiamo Marghe Giulia... Chiaccio e chioccio la Marghe Giulia Real? Allora, quindi questi PopSocket si usano per fare i musical.ly, però sono anche molto comodi, appunto, proprio per maneggiare il telefono, perché vi rendono la mano un po' più ferma. Ma infatti, per fare il musical.ly, il PopSocket vi aiuta a rimanere la mano ferma. E questa è una cosa fondamentale. Allora, io il mio primo PopSocket l'ho preso su Amazon, perché in pratica non lo vendevano ancora i cinesi. Anzi, non ce li aveva nessuno, poi dopo qualche settimana, subito ce li avevano tutti, cioè dovevano aspettare prima che li comprasse io. Allora, appunto, il mio primo PopSocket è stato questo, che ho preso da Amazon, con la Galassia sopra. Troppo troppo carino questo. Poi, sempre come lei, però sono un po' più diverso, sempre Galassius, aspettate, mi devo trovare, perché è un po' scomodo questo. Allora, è viola di fianco e mezzo è rosa Galassius. Lei è sicuro che l'ha preso dai cinesi, perché l'ha preso dopo. Dopo ancora, allora, appunto, per attaccare il PopSocket non è che esce solo questa particella qui, che praticamente si apre e si fa i muscoli, ma esce anche questa parte qui, che è l'adesivo, che esce praticamente attaccato a questo. Non mi è uscito nero, ora ne temi uno così. Praticamente esce attaccato a questo, e poi voi levate l'adesivo e lo mettete sul vostro cellulare, in quale parte volete. Così. E io già ne ho toccato uno, quindi questi non mi servono, perché in pratica io levo questo qui, la fantasia, e ne metto un'altra. Poi, appunto, in alcuni, tipo, in quelli dei cinesi escono anche questi, che sono dove poggiare, cioè, tipo, voi lo volete poggiare, che non so, a un muro, voi lo attaccate e poi mettete il PopSocket dentro, guardate così, aspettate un attimo, devo aprire, ecco qui, ecco qui, così. Poi lo mettete mentre avete il telefono spiaccicato sul muro. E quindi, a questo serve. E poi, allora, quindi io tengo questo qui, poi ho comprato dai cinesi, ho comprato questo qui, che è troppo carino, che è questo, così. Carinissimo. Questo l'ho ancora messo, e infatti no, io ho ancora levato la patticella, vedete? Ecco, ora vi faccio vedere proprio come esce un PopSocket. Allora, come vedete, questo l'ho pagato 2 euro e questo 5 euro, e ci sta la differenza, perché questo è anche un po' più sistemato. Però, comunque, cioè, si possono comprare dove volete. Però, cioè, sinceramente, alla fine voi dovete mettere solo le zi da dentro, 1 euro, 1 euro e 40, 2 euro, vanno benissimo. Ragazzi, allora, i prezzi variano da 1 euro e 42 euro. Non spendeteli più, perché ormai si trovano da tutti i cinesi. Quindi, se lo comprate su Amazon, pagate 5, 6, no. Quindi, spendete 1,40, 2 euro li trovate da tutti i cinesi. Chiedete perché li tengono tipo sulle cazze, sono troppo carini. Poi, forse sarà passata l'estate, però a me piace tanto l'anguria, che poi, questa l'amo, non so, questo è il ghiaccio con poi l'anguria, così. Ed è bellissimo perché poi, cioè, è bello. Io poi ho comprato questo che avevo già visto, però poi avevo pensato, no, io già ce l'ho inutile. Però, poi ho scoperto anche questa cosa che si stacca alla fantasia e se ne mette un'altra, perché appunto, come, allora, si prende questo cosino e si stacca. Ora non vi sto a fare, anzi, facciamo così. Se ci riesco, perché, allora, è un po' strano, però comunque si leva, con un po' di forza si leva la fantasia e voi ne mettete un'altra. Ecco, così. Allora, tipo, qui sotto c'era la fantasia, allora, in questa parte nera, allora, ora ho messo il baffo con gli occhiali, che è troppo carino questo. E sotto aveva questa base bianca, però io l'ho levata perché avevo incollato sulla cover, questo l'ho pagato 2 euro, perché avevo incollato sulla cover, appunto, già la base di questo qui, che era stato il mio, il primo popposocket. Allora, io ne ho attaccato la nostra, un po' di fantasia. Poi, lei me la dite che è attaccata in quel tempo, poi io l'ho già attaccato vicino al telefono, ho comprato pure la cover, ho scattato un attimo, non devo avvicinare. Ho comprato la cover perché credevo che a me non mi piaceva la cover, perché a me non mi piacciono i colori. Poi ho visto bene, e ho visto che mi piaceva la cover, perché non trovavo la cover, la 2 euro, questo qua, e 10 mesi. Vabbè, ora non mi sto a far vedere come si attacca, perché è facilissimo, non ci vuole colla, però dovete metterci un po' di forza. Quindi, allora, come fare, come fare questo popsocket? Allora, quindi mettete un vostro popsocket qui, così, e iniziate, allora, tipo, per un musical lo muovete, lo girate, lo... lo muovete come volete, tipo, ci fate anche, che ne so, i movimenti quelli là, tipo, strani, e poi si possono fare, non so se l'avete visto, lo feci con questo, praticamente feci il musical con il piede, e era tipo, ciao bella, io ti conosco, tu fumi cannella, mandala, 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 5 incondotte, bruciola, Io l'ho lasciata la musca, è troppo bello, e appunto lo feci con questo, però non è che questo è meglio di questo, sono tutti identici, solo che questi si vagano di meno, e fate meglio. Allora, ragazzi, votate il più bello, c'è questo qui con i baffi e con gli occhiali, che è il mio preferito, stupendo, ho pagato 2 euro. Poi, c'è questo qui con un fiore strano, con tutte queste fantasie strane, pagato 1 euro e 40, ed è stupendo, e poi c'è questo qui, che ho preso su Amazon, ma ora si trova anche dai cinesi, dai cinesi 2 euro, e io su Amazon 5. Questo quanto è costato, non mi ricordo mai, perché io mi ricordo... Allora, questo è costato, se non mi sbaglio, 2 euro, sì, 2 euro, no, questo è 2 euro, no, questo dovevo comprare sempre nel nostro studio cinese, quindi 2 euro, e questo 1 euro e 40. Ok, ragazzi, votate il vostro preferito, il mio preferito, ragazzi, è questo qui con i baffi, che vi di una volta... Ma è questo cosino, questo cosino, c'è troppo pelipino, ed è troppo carino, perché ha i baffi e poi ha gli occhiali tutti colorati, però un altro che è molto carino è questo qui, voi decidete voi. Allora, i miei pop socket sono questi qui, la parola sta a voi. Ragazzi, allora potete mettere il pop socket anche sulla pover di Marga e Giulia, kawaii. Io l'ho messa, infatti, lì, perché comunque tengo sempre questa cover, quindi è posto, però se posso mettere l'acqua in tutto, non vi preoccupate. Quindi, 3, 2, 1, go! Quindi ragazzi, questo è il video, spero che vi è piaciuto, a noi è piaciuto tantissimo, iscrivetevi a Instagram, e ci vediamo alla prossima, se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e iscrivetevi al canale. Aspettate, se volete le cover, le tazze o le maglie andate su www.margiuliakawaii.it Se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e iscrivetevi e scegliete anche il più bello, se non vi è piaciuto e condividete. Se non vi è piaciuto, shhh! Iscrivetevi al canale!